Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. È stato provato che stimolare la mente, apprendendo quotidianamente nuove conoscenze, migliora la funzionalità del nostro cervello e protegge il cervello dal declino cognitivo. Così come praticare sport quotidianamente, praticare movimento, che cosa fa? Ci previene dalla carenza della massa magra. Quindi ci mantiene in forza a livello muscolare di tendini e di ossa. Per quanto riguarda il nostro cervello, la nostra mente, tanti esperimenti sono stati fatti e tanti esempi possiamo fare. Ad esempio, il classico esempio dei topolini. Topolini messi in una situazione con tanti stimoli all'interno di un labirinto hanno una vita più longeva e sono più intelligenti. Invece topi che sono annoiati sostanzialmente, messi all'interno di un quadrato in assenza di stimoli. Quindi per mantenerci in salute dobbiamo essere curiosi, dobbiamo utilizzare la nostra testa, magari leggere molto, apprendere una nuova lingua, apprendere cose che non conosciamo, che non sappiamo. Però dobbiamo sempre fare attenzione, perché un eccesso di stimolazione cerebrale, così come un eccesso di sforzo fisico, questo fa male. Bisogna sempre mantenere un equilibrio nella vita. E quindi è proprio importante utilizzare sia la mente, magari leggendo qualcosa che non conosciamo, e sia il fisico, ma a tutto questo intervallare dei momenti di riposo. E quindi dormire, dormire e dormire. Beh, che il riposo sia di vitale importanza è confermato dal fatto che passiamo un terzo della nostra esistenza proprio a dormire. E se non dormiamo bene, quindi se il nostro sonno non è ristoratore, non è qualitativo, quindi non è un sonno di qualità, effettivamente tendiamo a trascinarci durante tutta la giornata. Ci sentiamo storditi, non riusciamo a memorizzare, siamo di cattivo umore. E poi una deprivazione del sonno per pochi mesi è sufficiente a uccidere una persona. Questo è il caso, ad esempio, di una patologia molto rara, l'insonnia fatale familiare, dove praticamente gradualmente le persone iniziano a perdere il sonno, fino ad avere una deprivazione del sonno completa, e questa problematica mi porta nel giro di 9 mesi alla morte del soggetto. Quindi mantenere una buona qualità del sonno è di vitale importanza. E quindi via tutte quelle persone che dicono io non ho tempo di dormire, sono troppo stressato, devo fare tante cose e non voglio dormire. Dormire è importante, perché poi rendiamo di più durante tutta la giornata in tutto quello che dobbiamo fare. Dormire è importante tanto quanto respirare, tanto quanto mangiare e tanto quanto bere l'acqua.